Ciao a tutti ragazzi, ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di alimentazione, parliamo di scelta di alimenti e come approcciare correttamente quando si va a fare magari la spesa e non si sa che tipo di cibo comprare. In questo video, proprio in maniera specifica, perché mi ispiro a un articolo scritto in questi giorni sul blog, che ti consiglio di scoprire, c'è il link in descrizione, parliamo di cibi proteici con basso contenuto di grassi e ovviamente con un contenuto di grassi che sia il più possibile salutare per il nostro organismo. Molto spesso si opta con la scelta di cibi eccessivamente pesanti, magari con un basso apporto proteico, invece diventa determinante per chi fa sport, ma anche per chi non fa sport, proprio scegliere un cibo che abbia una buona quantità proteica, che abbia una buona quantità e sana quantità di grassi, perciò grassi possibilmente insaturi, come per esempio il salmone, magari il tonno, piuttosto che altri che poi vedremo durante questo video, però ecco, mi raccomando, cercare di scegliere cibi che realmente apportino un beneficio al nostro organismo, perciò deve essere fondamentale proprio la richiesta, o meglio la scelta per una richiesta energetica completa, quindi nutrire il nostro corpo è il primo passo per stare bene. Ma andiamo al cuore del video, ovvero questi, quali sono questi cibi così importanti, così ricchi di proteine con bassi grassi? Fra i tanti possiamo annuvelare intanto quelli che sono di origine vegetale, e quindi i semi per esempio di canapa, poi ci sono i fagioli di soia, ecco per esempio io ho i semi di canapa che hanno 25 grammi di proteine, e sono ricchi di grassi anche insaturi, quindi omega 3 o omega 6, però non sono un amante, perché a me il sapore non piace, poi sai c'è anche il discorso, no scelgo un cibo perché comunque devo mangiarlo, e non soltanto per le sue capacità e proprietà nutritive. Poi ci stanno per esempio i fagioli di soia, molto pratici anche da mettere per esempio all'interno di un insalatona, gli arachidi, il burro d'arachidi, c'è ovviamente andiamo sul mondo dei legumi, quindi i fagioli, le lenticchie, i ceci e quant'altro. Se parliamo in tabella di una percentuale sui 100 grammi, i buoni fagioli hanno tra i 20 e i 24 grammi di proteine, e i 2 grammi di grassi, quindi sono assolutamente molto competitivi in termini di prestazioni nutritive e quindi proteine e rapporto grassi. Ricordiamoci sempre che però questi cibi hanno molte fibre, quindi non eccediamo, sono importanti le fibre, ricordiamoci che già le assumiamo magari dalla frutta o dalla verdura, quindi evitiamo di eccedere con il consumo di fibre su tutti gli alimenti, altrimenti il nostro intestino anziché nutrire il corpo va ad espellere perché un eccesso di fibre carica l'acqua e butta fuori appunto più sostanze che ha. Quindi ecco anche in questo caso specifico cercare di rivolgersi ad un professionista è il primo passo se si è ignoranti, ma anche senza, perché non è detto che tutti sappiano come gestire la propria dieta e il proprio piano alimentare, quindi diventa importante proprio essere eseguiti. Io personalmente da persona ho fatto sempre delle consulenze, ovviamente soft, senza andare a toccare poi nel dettaglio e le percentuali, cosa importante perché non avesse un riferimento è rivolgersi a un nutrizionista, quindi assolutamente importante rivolgersi a un nutrizionista. Cosa importante quando facciamo questo tipo di scelta è seguire una linea il più possibile adeguata alla nostra fisicità e alle nostre reali esigenze. Ma torniamo a parlare di cibo e di quelli che sono appunto i prodotti più importanti con un maggior rapporto proteine e grassi. Allora, proteine molto alte sono all'interno delle mandorle, anche tra i vari frutti secchi, sono anche all'interno delle noci, dei pinoli, i pinoli hanno un'altissima capacità proteica, con degli ottimi grassi, omega 3, omega 6, più che altro omega 6, ma ovviamente hanno anche in quel caso lì moltissime fibre, perciò attenzione a non eccedere anche con l'uso di questo tipo di cibi. La mandorla è anche molto magnesio, così come le noci, così come le nocciole. In cui uno può pensare nocciole-nutella, ecco non è così il rapporto, però ecco sicuramente mangiarsi una spalmabile con delle nocciole ogni tanto se è biologica potrebbe essere una scelta, un'alternativa e parliamo di quantità comunque limitate, quei 15-20 grammi non ci fanno male. Il discorso di una corretta alimentazione deve ricadere per forza sulla varietà, quindi scegliere anche cibi che abbiano dei grassi deve essere rapportabile a quelle che sono le nostre esigenze, quindi io devo obbligatoriamente avere in testa una spiegazione, una guida se non ce l'ho, e se invece ce l'ho già, portare a termine settimanalmente un percorso che sia il più nutritivo possibile per il nostro organismo. Ma andiamo a parlare invece di cibi animali, quindi c'è il manzo, c'è il polo, c'è il tacchino, il tacchino è molto alta la percentuale di proteine, parliamo di un 25%, quindi sui 100 grammi abbiamo 25 grammi di proteine, molto alta anche per il pollo, per il petto di pollo ovviamente, parliamo di un 22-24 grammi per cento con bassissima componente di grasso animale, in questo caso davvero sotto i 2 grammi, sia per il tacchino che per il pollo. Poi c'è il pesce, quindi c'è il tonno, c'è il salmone, c'è il pagello, i vari pesci azzurri, perciò il pesce povero ricco di proteine, poi lì entra il gusto ragazzi, quindi anche per le ragazze che magari hanno più fantasia con le ricette, con la cucina, perché mediamente, almeno se si tende un po' di più a cucinare con un po' più di estro, visti anche tutti questi influencer cuochi e cuoche, cerchiamo di sfruttare da un punto di vista nutrizionale, da un punto di vista di gusto, quelli che sono i cibi che più si sposano con i nostri piaceri, quindi non ricadiamo su un alimento perché fa bene, perché tanti fanno bene, l'importante è saperli mescolare e saperli portare, diciamo così, all'interno di un percorso, perché si parla di percorso nutrizionale, non si parla di dieta per dimagrire, si parla di scelta per stare bene, perché il dimagrimento ha una conseguenza al benessere, perché se dimagrisco in maniera cattiva, errata, ovvero magari non mangiando, il mio corpo poi, il conto me lo presenterà sempre. Cosa fondamentale è saper scegliere gli alimenti, perciò per esempio in questo caso parliamo di manzo, parliamo di semi di zucca, parliamo di salmone e appunto alcuni pesci, o meglio tutti i pesci vanno benissimo, non ce n'è uno meglio di altri, cosa importante però è saperli inserire. Per chi avesse difficoltà in questo tipo di processo, basterà scrivere una mail a wktfitnesschiocciolagmail.com per ricevere una pronta risposta per quello che riguarda dei consigli alimentari. Per chi invece avesse necessità proprio di un percorso nutrizionale, scrivendo sempre alla stessa medesima mail, io lo indirizzerò da un nutrizionista che avrà sicuramente tutti gli strumenti per comporre e creare il piano adatto alle tue o alle vostre esigenze. Insomma questo è un po' quello che cerchiamo di fare offrendo contenuti di alto livello, gratuiti sul blog e questa cosa di cui sto parlando oggi è estratta appunto dal blog e io poi inserirò il video all'interno del blog proprio perché voglio creare una zona all'interno della quale si possa crescere, si possa migliorare fisicamente, si possa migliorare anche da un punto di vista di motivazione allo sport e si possa migliorare in termini assoluti sul benessere. Ecco noi puntiamo esclusivamente a stare bene. Ok? Grazie mille, io vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo video sempre qui su WKT Fitness TV con il vostro personal trainer Fabrizio Ferri. Ciao a tutti e buona serata. O buona giornata, dipende dal momento in cui hai visto il video. Ah mi raccomando mi piace e iscriviti al canale, clicca anche sulla campanellina. Ciao a tutti! Ciao a tutti!